Buonasera, benvenuti a tutti. Questo è il secondo incontro del ciclo di conferenze che abbiamo organizzato con il titolo Famiglie e nuove generazioni nella tempesta pandemica, incontri in cui stiamo cercando di analizzare alcuni processi di cambiamento già in atto da diversi anni nelle famiglie italiane e non, ma per capire anche se sono stati in qualche modo e in qualche misura modificati dall'impatto con il Covid. Nell'incontro precedente il professor Ambrosini ha affrontato la questione da un punto di vista particolare, cioè ci ha parlato delle difficoltà e dei problemi che si creano nelle famiglie dei migranti nel momento in cui un membro o più di quella famiglia è costretto a lasciarla per venire da noi a spesso sostenere le nostre famiglie. Quindi tema interessante particolare, ricordo che è disponibile la registrazione dell'incontro sul sito dell'Unione Femminile. Anche oggi in effetti osserviamo il fenomeno migratorio da una prospettiva un po' diversa dal solito, nel senso che vogliamo mettere a fuoco non l'immigrazione in Italia, ma il tema invece della emigrazione dei nostri giovani verso altri paesi europei, in particolare quelli del Nord Europe. È un fenomeno che spesso viene semplificato con lo slogan della fuga dei cervelli, sul quale mass media, politica, eccetera, si sono più volte un po' scatenati, a mio avviso spesso in un modo un po' superficiale, scadendo direi in una serie di luoghi comuni e quindi mi pare molto interessante fare chiarezza su questo fenomeno, partendo da presupposti un po' più scientifici e approfonditi. Fra l'altro in questi ultimi mesi si parla addirittura di, non di fuga, ma di rientro dei cervelli. C'è stata anche una norma nell'ultima legge di bilancio, chiamata proprio così. secondo una ricerca del centro studi PVC, la pandemia avrebbe portato in qualche modo a ripensare la scelta fatta di emigrare, in quanto se prima dello scoppio della pandemia l'idea di tornare in Italia era esclusivamente condizionata alla certezza di tornare per poter migliorare la propria carriera, la propria retribuzione. Oggi sembrerebbe che questa propensione sia più legata invece a un generico desiderio di ritorno. Secondo questa ricerca fatta peraltro sui laureati, giovani laureati all'estero, 1 su 5, quindi il 20% tornerebbe volentieri in Italia, in particolare verso il sud, quindi con una percentuale maggiore, tanto che qualcuno parla di south working come di un trend in crescita. Però queste sono tutte propensioni da verificare e lo vedremo. Se stiamo ai dati, a meno quelli che ho trovato io, poi la nostra ospite avrà sicuramente degli elementi più precisi dei miei. L'Istat ci dice che nel 2018, più della metà, il 53% di chi è andato all'estero per lavoro, era in possesso di un titolo di studio definito medio-alto, nello specifico circa 33.000 diplomati e 29.000 laureati. Un dato che è in aumento, in particolare quello dei laureati, è aumentato in un anno del 6% e addirittura considerando un periodo più ampio di cinque anni, nei cinque anni precedenti, gli emigrati con un titolo di studio medio-alto sono aumentati del 45%, quindi un dato importante. Di questi, mediamente, i laureati sarebbero circa 1 su 3, diciamo, sul totale. Quindi, come dire, forse è semplicistico parlare solo di fuga di cervelli, ma comunque si tratta indubbiamente di un fenomeno che mi sembra significativo. Certo è che il tema della emigrazione giovanile italiana si inserisce in un quadro, in uno sfondo più complesso, che abbiamo affrontato anche in altre occasioni, qui non abbiamo il tempo ovviamente di approfondirlo, ma qualche accenno giusto per inquadrare la situazione, su elementi che riguardano, per esempio, i ritmi demografici, ritmi sempre più bassi. Siamo arrivati a un tasso di fecondità di 1,17 per le donne italiane, che sale a 1,27, comprendendo anche le straniere presenti in Italia, contro una media europea dell'1,57. Sembra anche che il Covid peggiori questa tendenza, sono dati questi molto recenti, da un'indagine su 15 città italiane, emergerebbe che i bambini nati in dicembre, quindi un paio passi per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Fra l'altro un dato che sembrerebbe coerente anche con un altro dato, che è l'aumento verticale degli acquisti di pilole contraccettive nel marzo dell'anno scorso, con un più 11, passa per cento rispetto all'anno precedente. In questo quadro ovviamente sono cambiate anche le previsioni dei demografi, che prevedevano che l'Italia sarebbe scesa sotto la soglia dei 400 mila nati in un anno nel 2032, invece le previsioni sono molto anticipate, anticipando addirittura al prossimo anno l'arrivo a questa soglia inferiore ai 400 mila nati. In sostanza siamo la nazione con meno giovani rispetto al resto dell'Europa e possiamo aggiungere che siamo contemporaneamente la nazione che meno permette e facilita lo sviluppo di quello che si chiama il capitale umano, delle potenzialità di questi giovani. Per esempio siamo il paese peggiore in Europa per quanto riguarda i net, i giovani che non studiano e non lavorano, sono arrivati nel 2020 al 23%, 23,4% contro una media europea del 14,8%, quindi una notevole differenza, anche se poi scorporando il dato si ha un dato del nord un po' più vicino con un 16,8% e un dato del sud drammatico con un 32,8%. Ma abbiamo anche il 64 e passa di giovani, 64 e 3, di giovani fra i 18 e 34 anni che vivono ancora in famiglia e su questo è anche stato scritto e detto tanto, libri eccetera, è stata anche molta ironia, contro un 48,2% della media europea. Dobbiamo anche ringraziare di questo la precarietà lavorativa molto prolungata nel tempo attraverso quelli che sono eufemisticamente chiamati i lavori flessibili e in particolare possiamo attribuire questo aspetto a un altro fenomeno importante in Italia che è il problema dell'ascensore sociale sostanzialmente bloccato. Su questo tema una ricerca OX del 2018 vede un rallentamento della mobilità sociale, in tutti i paesi avanzati, già iniziato nella seconda metà degli anni 70, arrivando ad una situazione attuale in cui si capisce che provenga dalla fascia del 10% più povera della popolazione avrebbe bisogno di circa 100 anni, quindi 4-5 generazioni per portarsi al livello del reddito medio del proprio paese, quindi come dire un ascensore che più che bloccato è proprio completamente fermo. Ovviamente anche l'Italia è coinvolta in questo trend, anche se non è per fortuna l'ultimo fanalino di coda, ma ci sono alcuni dati che comunque confermano questo problema, per esempio il permanere dei figli nello stesso titolo di studio dei genitori. Per arrivare ad avere una laurea un ragazzo ha il 75% di possibilità se ha i genitori laureati, il 48% se sono diplomati, il 12% con la licenza media e soltanto il 6% di possibilità, se i genitori sono con un titolo inferiore, quindi senza un titolo di studio. Qui è chiamato in causa ovviamente anche il sistema scolastico, con un 13,5% di dispersione, tre punti sotto la media europea, con un secondo posto in Europa per abbandoni universitari, che peraltro fa da contraltare invece al penultimo posto per numero di laureati. Qualcuno denuncia anche un problema di orientamento che la scuola non riuscirebbe a fare e in effetti i dati sulla scelta della scuola superiore lo confermerebbero, perché è evidente la connotazione di classe, della divisione degli studenti tra licei, tecnici e professionali. Per esempio un terzo dei liceali proviene da famiglie laureate contro solo un quinto che viene da famiglie con la terza media, solo per dare un dato. Su questo poi bisognerebbe anche fare un ragionamento più ampio, più articolato sul ruolo che l'istituzione scolastica oggettivamente svolge in una società come la nostra, una società capitalistica divisa in classi, caratterizzata da disuguaglianza sociale e quindi in un contesto come questo la scuola deve rispondere a istanze diverse e a volte contraddittorie, spesso contraddittorie tra di loro, perché da un lato dovrebbe essere strumento di mobilità sociale per garantire appunto il necessario sviluppo del sistema economico, uno dei fattori è proprio quello della mobilità, ma dall'altro, come è messo in evidenza in molte ricerche, deve anche svolgere una funzione di riproduzione della struttura sociale e delle sue stratificazioni. Evidentemente è difficile trovare l'equilibrio in questa dialettica, tanto che negli ultimi decenni possiamo dire sembra proprio aver prevalso nettamente questo secondo aspetto rispetto al primo. Ma il tema ovviamente è complesso, avremo magari altre occasioni per approfondirlo, adesso direi che è il momento di dare la parola alla professoressa Roberta Ricucci, che naturalmente ringraziamo per la sua disponibilità. La professoressa insegna all'Università di Torino, nel Dipartimento di Cultura, Politica e Società, è già stata nostra ospite qualche anno fa con una relazione interessante su vecchie e nuove disuguaglianze a scuola, in tema con quello che stiamo un po' dicendo, e recentemente ha pubblicato una sua ricerca proprio sulla migrazione giovanile dal paese del sud Europa, Italia in particolare, verso i paesi del nord Europa. Una ricerca interessante, svolta con un approccio qualitativo che quindi ci permette di capire non solo il fenomeno nei suoi termini quantitativi, di dimensioni, ma anche i motivi di queste scelte di migrazione, le aspettative, le motivazioni che spingono questi giovani a darsi all'Italia, ma anche le contraddizioni che questa scelta produce nei loro confronti e quindi il loro vissuto, come si percepiscono in quanto migranti, quindi aspetti di particolare interesse e immagino che la professoressa Ricucci avrà molto da dirci sul tema e quindi le cedo volentieri la parola. Grazie, grazie innanzitutto per l'invito e soprattutto per questa presentazione. Condivido lo schermo. Il tema è sicuramente complesso, articolato, come è stato anticipato, chiama in causa diverse istituzioni dalla famiglia alla scuola, alle altre realtà che in qualche modo contribuiscono a definire i percorsi formativi e poi quelle che sono le dinamiche professionali dei giovani. Come introdotto, il mio sguardo di oggi sarà uno sguardo particolare, ragioneremo di quella che è la mobilità internazionale dal punto di vista della mobilità intracomunitaria, ovvero di giovani che si muovono all'interno dello spazio dell'Unione Europea, possedendo la cittadinanza di un paese membro dell'Unione Europea. E questo è un elemento importante perché sappiamo come la cittadinanza possa garantire accesso e titolarità di diritti, oltre a essere un elemento che differenzia e talora conduce a processi di discriminazione. Il quadro è un quadro, quello che vado a presentarvi, attraversato da una pluralità di sguardi, ma anche da una trasversalità di contenuti. Allora, i giovani che partono, i giovani che si muovono all'interno del contesto comunitario o europeo, ma intendo europeo, quello all'interno dell'Unione Europea, sono giovani che appartengono a diverse categorie che andremo a definire. I giovani che compongono la mobilità internazionale intracomunitaria, sono giovani le cui caratteristiche sono state spesso sintetizzate o essenzializzate in qualche modo sotto l'etichetta di cervelli, cervelli in fuga, a cui si accennava già nell'introduzione all'incontro di oggi. Ecco, vedremo anche come questa etichetta essenzializza un tema e pone l'accento all'interno di un dibattito che dovrebbe essere in qualche modo scomposto e sfaccettato su taluni elementi, dandone poi anche una rappresentazione che può essere stereotipata. Allora, noi ci muoviamo attualmente in un contesto italiano, in un contesto nazionale caratterizzato per quanto riguarda la relazione fra giovani, lavoro e mobilità successiva da alcuni elementi. Innanzitutto sappiamo, secondo gli ultimi dati dell'Istat, che la disoccupazione giovanile nella fascia tra 14 e 25 anni in qualche modo è tornata a crescere, si attesta come dato medio intorno al 30%, sappiamo come questo dato vada poi scomposto e come ci siano delle dinamiche regionali o sub-regionali da tenere presente e che possono intervenire rispetto a una maggiore facilità o una difficoltà nell'ingresso nel mercato del lavoro. Quindi il primo elemento, il primo tassello del nostro puzzle è una relazione difficile con il mercato del lavoro. Sicuramente è una relazione che l'evento pandemico ha reso ancora più complessa in negativo. Abbiamo un altro tassello determinato da un lato dal fallimento di alcune politiche, penso in particolar modo a Garanzia Giovane, questo grosso investimento promosso sul fondo dell'Unione Europea in maniera trasversale ai diversi paesi comunitari che avrebbe dovuto in taluni contesti rilanciare il nesso fra giovani e mercato del lavoro. Però ad oggi i dati rispetto sia al contesto italiano sia agli altri contesti dell'Unione Europea ci presentano un quadro sostanzialmente fallimentare. Perché? Perché a fronte di un disegno di politiche non abbiamo assistito a un investimento in termini di aggiornamento, formazione, revisione in qualche modo di quelli che sono i processi che ineriscono l'orientamento, l'accompagnamento, la condivisione di informazioni rispetto al nesso fra giovani e mercato del lavoro, ma anche rispetto al nesso fra mondo della scuola, come veniva richiamato, la relazione con il mondo del lavoro non si costruisce al di fuori e successivamente al percorso scolastico formativo. La relazione con il mondo del lavoro parte, alcune revisioni in qualche modo delle dinamiche scolastiche formative lo hanno sottolineato, penso alla sottolineatura dell'alternanza scuola-lavoro, penso a una rivalorizzazione di quelli che sono i percorsi tecnici, non da ultimo la sottolineatura del valore degli istituti degli ITS, quindi gli istituti tecnici superiori come esperienza che avvicina maggiormente i giovani al mercato del lavoro. Tutte indicazioni, talora tutte iniziative, in alcuni casi poliglie, che però si sono scontrati con una progressiva riduzione di risorse pubbliche a disposizione. E questo di certo non ha favorito un accompagnamento e un'azione forte in termini di sostegno ai più giovani nella relazione con il mercato del lavoro. Altro elemento del nostro quadro generale in cui inseriamo il dibattito di oggi, un sistema di welfare mediterraneo, un sistema di welfare centrato sulla famiglia o sulle famiglie al plurale, che fa leva da un lato su una disponibilità di risorse, non solo economiche, ma in termini di risorse di tempo, in termini di risorse abitative, in termini di risorse a supportare, accompagnare e in qualche modo ancora sostituirsi a quelle dinamiche, a quelle attività di esplorazione e conoscitive che dovrebbero essere in prima battuta in capo ai giovani protagonisti. D'altro lato, un sistema di welfare mediterraneo che lascia alle famiglie l'onere di tutta una serie di attività, anche in termini di orientamento, non solo nel difficile passaggio fra la scuola media e la scuola superiore, per usare le vecchie etichette, ma quella a cui più siamo abituati, ma anche poi nell'orientamento successivo. Quindi un mancato investimento in termini di politiche di orientamento e di orientamento in uscita soprattutto per quanto riguarda la transizione poi verso l'istruzione terziaria da un lato o la transizione diretta verso il mercato del lavoro. L'ultimo elemento che in qualche modo richiamiamo e solo apparentemente sembra distante dai contenuti di oggi riguarda il dibattito sulle migrazioni e l'intreccio fra come questo dibattito viene sviluppato e come Emilia lo presenta. Questo perché? Perché la caratterizzazione e soprattutto il taglio con cui viene presentato ogni tema legato ai processi migratori è un taglio che ha una qualche connotazione negativa. Inutile nascondere la rappresentazione dei migranti, delle famiglie migranti in generale è essenzializzata all'interno di un immaginario caratterizzato da pochi volti e spesso legati alla prima accoglienza, a soggetti dequalificati, inseriti in professioni o ambiti lavorativi penalizzati socialmente, poco pagati, pericolosi come direbbe il collega Ambrosini. Questo lo richiamo perché tale immaginario rende difficile l'assunzione di un'identità migrante in chi parte oggi, ovvero in chi lascia oggi l'Italia per trasferirsi in un altro contesto. Tecnicamente il migrante è colui o colei che nasce in un contesto attraverso una frontiera e si stabilisce in un altro contesto per almeno un anno. Ed è questa l'esperienza che molti giovani italiani o di altri paesi del sud Europa stanno facendo. Però guai a identificarli o etichettarli come migranti. Questo perché? Perché nella retorica pubblica l'etichetta di migrante ha una connotazione negativa. Qual è il contesto in cui ci muoviamo? Data la connotazione negativa di qualsiasi tema legato alle migrazioni, noi ci spostiamo e non siamo più in un contesto in cui ragioniamo di migrazioni, ma ragioniamo di mobilità. Ragioniamo di mobilità umana, ragioniamo di mobilità internazionale. Questa diciamo rivoluzione è avvenuta anche all'interno del dibattito scientifico, sempre di più il termine mobilità ha preso il sopravvento rispetto a una narrazione legata ai temi migratori. Nonostante questa rivoluzione copernicana che qualcuno definisce una sorta di macchiaggio delle etichette scontiamo ancora il fatto che utilizziamo vecchi linguaggi per definire identità nuove. Le mobilità degli ultimi 15 anni hanno delle caratteristiche, delle peculiarità, delle specificità che in qualche modo le rendono differenti, innovative rispetto a quanto succedeva ad esempio negli anni 90. Le migrazioni dal sud Europa verso i paesi del nord Europa, le migrazioni dall'Italia di giovani non si sono arrestate nel momento in cui l'Italia è diventata un paese di immigrazione. Hanno continuato ovviamente a ritmi meno serrati, cambiando i protagonisti, cambiando le fasce d'età, cambiando le caratteristiche dal punto di vista del capitale culturale e formativo. Però quelle migrazioni hanno continuato a essere rubricate attraverso i linguaggi della migrazione to cure. Quindi si parlava di migranti, si parlava di uomini e donne che lasciavano il paese per realizzare un progetto migratorio, si parlava di ricongiungimenti familiari. Ecco, oggi si sta assistendo a qualcosa di diverso, a un sviluppo di nuove retoriche, quindi si parla di expat, si parla di soggetti mobili, si parla di giovani che intendono fare un'esperienza di vita all'estero, anche se poi questa esperienza durerà anni se non decenni, anche se poi questa esperienza non sarà così qualificante, così gratificante, o non riguarderà il riconoscimento del titolo di studio o della qualifica ottenuta nel contesto italiano. Scusa Roberta, mi dicono che non scorrono le slide, se le stai usando. Le sto usando e stanno scorrendo. Allora siamo fermi invece, sempre alla prima. Forse se le metti in modalità... Adesso le vedo. Adesso le vedete? Allora, riparto così ve le faccio vedere in termini di preparazione svolta. Svolta? Allora abbiamo dato alcune indicazioni rispetto alla cornice generale. Il contesto più nel particolare, e siamo qui alle retoriche che distinguono e dividono, qui ci soffermiamo perché fra le retoriche che distinguono e dividono, la retorica che più ha preso piede è quella dei cervelli in fuga. Come veniva richiamato, è una retorica che è entrata anche all'interno di provvedimenti legislativi, che va a informare e condizionare il dibattito pubblico e a renderlo esclusivamente centrato sul tema dei cervelli in fuga. I dati in realtà ci dicono che non ci sono solo i cervelli in fuga, posto che anche sul termine fuga si potrebbe ragionare, soprattutto in un momento storico in cui l'Italia si confronta, ad esempio, con l'arrivo di migranti forzati, a cui il termine soggetti in fuga sembrerebbe più appropriato. Nella retorica pubblica, in ogni caso, e in quelle che sono le rappresentazioni sui principali quotidiani, di qualsiasi orientamento, e più o meno preparati sul tema, o con un'attenzione specifica rispetto all'analisi dei dati, alla presentazione dei numeri, l'elemento trasversale è quello che definisce e guarda solo al cervello in fuga, spesso declinato esclusivamente al maschile, quindi fuggono prevalentemente gli uomini, anche se sappiamo che esiste anche una dinamica di mobilità internazionale che caratterizza dei giovani. Quali sono alcuni fattori di spinta, fattori di attrazione, che in qualche modo muovono le dinamiche di mobilità internazionale con cui ci confrontiamo, guardando oggi alle mobilità che partono dall'Italia o dai paesi del sud Europa. Allora, di sicuro il tema trainante che raggruppa la maggior parte dei protagonisti è quello che ha a che fare con il lavoro, con la realizzazione personale, con il riconoscimento e la valorizzazione di un percorso di formazione compiuto in Italia che non trova la sua dinamica di inserimento, non trova la sua dinamica di riconoscimento all'interno del contesto innanzitutto subregionale, poi regionale, forse un po' meno nazionale. La mobilità è spesso una mobilità verso l'estero a fronte di alcune possibili mobilità infraregionali. Accanto al tema del riconoscimento professionale e della valorizzazione personale che passa, sappiamo, per molti aspetti attraverso l'esperienza e la biografia lavorativa, un altro motore trainante quasi al pari dell'inserimento professionale è legato alle opportunità di welfare, è legato a quelle opportunità che si pensano essere maggiori all'interno di altri contesti nazionali, si pensano essere maggiormente fruibili e più facilmente accessibili in altri contesti nazionali rispetto a quanto previsto e a quanto sia possibile fare nel contesto italiano. Sottolineo si pensa, perché talora vi è una scarsa competenza, una scarsa conoscenza rispetto a quelli che possono essere davvero i diritti esigibili e quelle che sono le opportunità che si possono cogliere una volta arrivati in un altro contesto. Ma sul tema, in qualche modo, dell'apprendimento e della pressocializzazione alla partenza torneremo. C'è un altro fattore che in qualche modo può trainare la scelta di realizzare un percorso di mobilità. Però sono delle sollecitazioni esterne, sollecitazioni che possono venire dal gruppo dei pari e quell'immaginario che da sempre caratterizza ogni percorso di mobilità. È lo stesso per tutti i processi migratori. Esiste un immaginario rispetto alle possibilità, alla dinamicità di una società altra rispetto a quella in cui si è inseriti. Ma le sollecitazioni esterne vengono nell'era, in qualche modo, dei nuovi social network anche da una miriade di community e di blog che distribuiscono o condividono informazioni che sono, in qualche modo, potenti veicoli veicoli di socializzazione a un nuovo contesto, a un nuovo modo di vivere. Ovviamente l'occhio di chi ha intenzione di realizzare un processo di migrazione diventa un occhio selettivo. In queste community troviamo anche molte notizie rispetto alla difficoltà di inserirsi in un nuovo contesto rispetto a quelle che sono i passaggi da affrontare per arrivare a beneficiare appieno di quelle che sono le opportunità di welfare per cui si decide di partire. Rispetto alle difficoltà in termini di accesso a risorse abitative in termini di riconoscimento talora anche di percorsi formativi. Ecco, l'occhio di chi intende ed è insomma in uno stadio avanzato di definizione del proprio progetto di mobilità diventa particolarmente selettivo e non è più in grado di cogliere questi elementi di difficoltà. Guardate, nulla di diverso se compariamo questa prospettiva con quella di chi decide di migrare dall'estero verso l'Italia. Accade esattamente la stessa cosa. Poi c'è il tema della cultura e delle istituzioni questi sono più che altro ambiti elementi che concorrono a definire l'attrazione di un paese rispetto ad un altro e quindi a rendere un paese più appetibile rispetto ad altri possibili paesi candidati quindi una sintonia rispetto alla lingua una sintonia rispetto a quelli che possono essere le dinamiche culturali a quelli che possono essere i valori o comunque quanto abbiamo imparato a conoscere di quel paese attraverso la nostra socializzazione a scuola o nel gruppo dei pari o attraverso i nostri ambienti dell'attività del tempo libero. A partire sono diversi profili con numerose identità. Allora abbiamo innanzitutto i primi spesso i primi candidati sono gli studenti gli studenti di scuole superiore all'ultimo anno o di percorsi universitari già con lo sguardo oltre confine. Ovviamente ci sono delle specifiche c'è una maggiore propensione a pianificarsi all'estero quindi pensarsi in qualche modo con una biografia che si sviluppa al di là del titolo conseguito in Italia in altri paesi fra chi ha già alle spalle delle esperienze di studio o di vita all'estero c'è una maggiore propensione rispetto alla possibilità di realizzare un percorso di mobilità internazionale in chi proviene da famiglie con un determinato background socio-culturale e come si diceva prima la classe sociale di appartenenza conta le caratteristiche delle famiglie continuano a rappresentare delle variabili intervenienti importanti ma non ci sono solo gli studenti ovviamente ci sono anche i lavoratori ci sono già ci sono coloro che hanno già sperimentato un primo inserimento nel mercato del lavoro un inserimento che ha le caratteristiche di quelle che sono le peculiarità dell'inserimento che lega giovani al mercato del lavoro da diverso tempo inserimenti flessibili precari talora mediati da soggetti che fanno intermediazione nell'incontro fra domande offerte di lavoro spesso non attinenti al titolo di studio posseduto con forme contrattuali le più disparate e spesso senza particolari tutele ecco questi soggetti sono altri candidati alla mobilità candidati che partono con esperienze che hanno in qualche modo condizionato negativamente lo sguardo sul mercato sul mercato del lavoro le esperienze di precarietà di flessibilizzazione di contratti ultra temporanei e poco rispettosi delle tutele dei diritti dei lavoratori sappiamo che sono numerosi sappiamo che è forte anche la quota ampia la quota di coloro che svolgono attività lavorative senza essere contrattualizzati ecco queste esperienze ipotecano negativamente la relazione con il mercato del lavoro da un lato dall'altro però rendono lo sguardo con cui si guarda alle prospettive di inserimento lavorativo uno sguardo più disincantato e forse con un grado di consapevolezza e di capacità di discernimento rispetto a quello che può capitare maggiore si muovono poi anche altri soggetti possono essere giovani qui il tema della cittadinanza è importante precari e stranieri in cerca di formazione ovviamente la cittadinanza pesa nella possibilità di realizzare percorsi di mobilità internazionale pesa il tipo di permesso di soggiorno o il tipo di condizione giuridica che si possiede spesso lo sguardo della componente giovanile con cittadinanza non italiana è uno sguardo che punta maggiormente a sviluppare percorsi di formazione rispetto all'inserimento lavorativo c'è una certa diciamo riluttanza da parte dei figli dell'immigrazione soprattutto se ricongiunti quindi non se nati in Italia a realizzare una nuova migrazione una seconda migrazione in un altro in un altro paese c'è poi il tema invece di coloro che hanno una posizione stabile nel mercato del lavoro ma sono ma sono stranieri ecco in questo caso la mobilità internazionale è una mobilità che spesso si coniuga con percorsi di ricongiungimento familiare o percorsi che risiedono all'interno di uno sviluppo transnazionale sia delle famiglie sia delle competenze professionali e poi abbiamo bambini e pre adolescenti i giovani adulti che si muovono sono anche in molti casi giovani adulti con famiglia questo è maggiormente vero per altri paesi del sud Europa in Italia abbiamo sentito come ci sia anche una più lenta transizione dal punto di vista di formazione di una famiglia autonoma in ogni caso abbiamo anche processi di mobilità che riguardano famiglie già formate che tengono conto di tutte le tematiche che ineriscono il trasferimento e l'interazione con i servizi e le attività scolastiche di socializzazione extrascolastica che la presenza di minori richiama quali sono le variabili chiave se esistono per comprendere in qualche modo chi possa avere maggiori chance di realizzare un percorso di mobilità internazionale ho detto altrimenti se sia possibile identificare una sorta di identikit dei candidati alla mobilità internazionale sicuramente l'età e l'essere in una fase della propria biografia personale e qua lo leggo al tema successivo priva di una famiglia di elezione quindi priva di una serie di compiti di ruoli da svolgere questi sono due elementi che vanno di pari passo tendenzialmente i giovani con alto capitale culturale sono coloro che sono candidati alla mobilità internazionale si collocano nella fascia che arriva fino ai 29 anni coloro che hanno un capitale culturale medio o medio basso possono anche ampliare la fascia d'età alla partenza conta ovviamente lo status occupazionale non partono solo i disoccupati o gli inattivi partono anche coloro che hanno delle occupazioni precarie in alcuni casi le ricerche ci mostrano al di là di quella che ho condotto personalmente ci mostrano anche partenze che hanno coinvolto soggetti che avevano uno status occupazionale anche forte ma a questo forse non si associava da un lato una soddisfazione professionale una soddisfazione personale in termini di lavoro e soprattutto dimensioni svolte spesso al di là di quella che poteva essere la retribuzione o quantomeno il riconoscimento dal punto di vista della retribuzione quindi non solo chi è in una condizione di disoccupazione di inattività ma anche chi è in una condizione di precarietà e come ho detto da ultimo anche chi è in una condizione di stabilità occupazionale ma questa non risponde o non è in grado di soddisfare altri elementi e quelli che sono altri diciamo elementi importanti in termini di soddisfazione e di benessere personale come ho già anticipato conta aver esperito altre mobilità spesso i candidati potenziali quelli che realizzano dei percorsi di mobilità hanno alle spalle viaggi studio molti hanno alle spalle un anno di esperienza di studio all'estero taluni delle attività lavorative in termini di tirocinio in termini di stage svolte all'estero ovviamente questo è un elemento che si accompagna alla classe sociale della famiglia e quindi alle disponibilità e alla possibilità di svolgere determinate esperienze durante il periodo della scuola superiore o il periodo dell'università sappiamo che una delle esperienze più note è quella dell'esperienza Erasmus che caratterizza molti studenti universitari una diciamo fetta in crescita di studenti universitari negli ultimi anni è comunque un'esperienza che richiede un forte coinvolgimento della famiglia in termini di sostenibilità economica dell'esperienza Erasmus o diciamo una disponibilità a accompagnare all'esperienza di studio all'estero un'attività lavorativa perché l'entità insomma delle borse di studio non consente di essere autonomi ed esclusivamente far leva sull'entità della borsa di studio ovviamente tutto questo poi va calibrato rispetto ai contesti di destinazione alcuni contesti sono più costosi in termini di costo della vita rispetto ad altri ma in un dato generale tutti i partecipanti in questo dato lo taggo da una ricerca che ho appena concluso rispetto all'esperienza Erasmus che ha coinvolto gli studenti dell'Università di Torino un elemento trasversale emerso la ricerca riguarda proprio la necessità in qualche modo di affiancare una un quid economico a quella che è l'entità della borsa per poter vivere a pieno l'esperienza Erasmus cosa succede nel momento in cui in qualche modo arrivo in una realtà oltre confine si potrebbe richiamare un adagio l'erba del vicino è sempre più verde in realtà qui quello che ci dicono le ricerche è che ci si confronta spesso con una realtà che è completamente in attesa o una realtà che non si voleva guardare in maniera così attenta o da vicino allora spesso le mansioni questo è il caso tedesco ma lo stesso potremmo dire rispetto all'anno scorso del caso inglese adesso insomma tutto sarà rivisto dall'anno della pandemia e ancora di più nel caso inglese dalla vicenda della Brexit allora nel caso nel caso tedesco l'analisi dei cervelli fuggiti comunque della quantità di giovani e meno giovani che hanno lasciato l'Italia per inserirsi nel mercato del lavoro tedesco rivela che spesso l'inserimento avviene in mansioni di basso profilo quindi non quelle che sono quello che è l'inserimento pari al titolo di studio posseduto i settori in cui ci si inserisce sono quelli quelli menzionati quindi vedete che rispetto ad altri processi migratori quelli che vengono considerati come le tradizionali migrazioni troviamo moltissime similitudini un processo di downgrade dal punto di vista delle mansioni svolte una concentrazione in alcuni settori del mercato del lavoro una precarizzazione del rapporto del lavoro si lascia diciamo un contesto dove si era inseriti in maniera precaria dove si era costretti a navigare fra diversi contratti diverse diciamo attività lavorative talora e si raggiunge un nuovo contesto con le stesse caratteristiche e anche dal punto di vista della retribuzione non abbiamo quel balzo in avanti che era nelle attese quantomeno in chi sognava un'esperienza di mobilità internazionale per in qualche modo migliorare il proprio profilo sia dal punto di vista dell'inserimento lavorativo sia dal punto di vista della retribuzione cosa possiamo dire quando andiamo quando lasciamo i protagonisti in qualche modo quando diamo voci ai protagonisti quindi approfondiamo le motivazioni per cui si è deciso di lasciare o si decide di lasciare il il paese vi ho divisi secondo due prospettive qua in questa slide che spero vediate avete quella degli studenti allora di coloro che in qualche modo stanno pensando a un percorso di mobilità internazionale e questo sguardo ci serve per capire quali sono quali siano le aspettative per capire in qualche modo quale sia il sentire di chi ha iniziato a mettere nella propria prospettiva futura un'esperienza al di fuori del contesto di vita voglio vedere il mondo da diversi punti di vista da diversi luoghi se dovesse realizzare questi progetti credo avrò una conoscenza più approfondita del mondo da tutti i punti di vista imparare una lingua anche conoscere persone nuove esperienze diverse doversi reinserire e quindi riscoprire anche altre questioni sarà un'esperienza di vita mi permetterà di conoscere persone stimolanti in un altro ateneo qui chi ha pensa un'esperienza Erasmus in un'altra città penso sia formativo ci si deve adattare quindi più un'esperienza di vita più un progetto che possiamo intendere come temporaneo per sperimentarsi in contesti altri stupisci la sottolineatura rispetto alla pluralità culturale che si ritrova all'estero quando ormai l'avrete visto con il collega Ambrosini la scorsa settimana ma il contesto italiano è un contesto plurale è un contesto strutturalmente caratterizzato dalla diversità culturale linguistica religiosa e curioso come questo elemento per molti per molti giovani sia la cifra di altri contesti di altri contesti soprattutto internazionali passando allo sguardo dei giovani dei giovani lavoratori cosa offre l'esperienza all'estero riconoscimento meritocrazia conta chi sono da dove vengo in quale famiglia sono cresciuto questo è un tema classico che ho rincracciato in numerose delle mie interviste che ho raccolto ascoltando giovani italiani ma anche portoghesi e spagnoli a Berlino e Londra il tema del riconoscimento il tema dell'essere apprezzati il tema della meritocrazia ovviamente sconta uno dei grandi diciamo classici rispetto a come viene dipinto il contesto italiano e quali possono essere le dinamiche che in qualche modo frenano l'ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani un mercato del lavoro che viene percepito come ineguale come caratterizzato non tanto da una valorizzazione e da un riconoscimento del percorso fatto delle esperienze svolte ma quanto piuttosto legato a dinamiche che hanno a che fare più a relazioni sociali quindi a un forte ricorso al capitale sociale che ognuno di noi ha rispetto a quello che ognuno di noi può rappresentare attraverso le proprie credenziali educative formative esperienziali e via dicendo ovviamente anche questa è una rappresentazione che si ha del mercato del lavoro all'estero numerosi studi hanno confermato come talune dinamiche siano trasversali ai diversi mercati del lavoro dell'Unione Europea e poi la possibilità di di autorealizzazione qui a Berlino in tanti speriamo di poter realizzare il nostro sogno di impresa non sarà semplice studiare la lingua quindi almeno una consapevolezza rispetto a quelli che sono le variabili importanti per una buona riuscita nel mercato del lavoro altro puoi essere bravo quanto vuoi ma se non conosci il tedesco sempre ai margini anche a Berlino Berlino è una città internazionale ma il nocciolo duro chi sta negli uffici è tedesco ecco è con loro che devi avere a che fare ecco un elemento positivo che ho rintracciato nella mia ricerca è quella di una dell'emergere di una consapevolezza delle difficoltà in chi si trova si trova all'estero quasi dire che quella l'immagine edulcorata di una maggiore facilità di inserimento di un mercato del lavoro meritocratico una facilità di accesso a tutte le opportunità ecco ben presto questo questo immaginario perde di smalto e si acquisiscono degli elementi che riportano con i piedi per terra gli elementi di concretezza e di e di realismo ecco di nuovo nulla di nuovo rispetto a quello che ha a che fare con i tradizionali processi processi migratori c'è un immaginario che guida la decisione di partire c'è un immaginario che è utile per sostenere anche le prime le prime difficoltà insomma per accompagnare le fasi iniziali del percorso di inserimento ma ben presto il confronto con la realtà insegna o svela quelle che sono le dinamiche reali e che spesso l'immaginario spesso il racconto spesso anche diciamo le community online non riescono appieno a far a far trasfarire e poi il tema della della diffidenza che diventa stereotipo che diventa discriminazione come ci dice una ragazza pare opportunità ma un po' di diffidenza verso noi in quanto italiani si si percepisce anche qui un elemento che non fatichiamo a comprendere in ogni processo di immigrazione allora cosa succede nel momento in cui mettiamo a confronto due sottogruppi all'interno della popolazione giovanile pronta diciamo o possibilmente ai blocchi di partenza per realizzare un percorso di mobilità internazionale la popolazione giovanile in Italia oggi si può suddividere in due grandi sottogruppo da un lato abbiamo gli italiani da un lato abbiamo i giovani stranieri nel gruppo degli italiani potremmo ancora fare una differenza differenziare fra italiani di origine italiana e italiani di origine straniera qui non ci soffermiamo su questa differenza se c'è curiosità o interesse se la richiamiamo poi nel dibattito ecco soffermiamoci su similitudini e differenze fra i due grandi gruppi italiani e stranieri ovvero fra coloro che hanno una maggiore possibilità di mobilità all'interno dell'Unione Europea in virtù della cittadinanza italiana e coloro che invece non hanno tale possibilità in virtù magari di una cittadinanza non italiana e di uno strutto giuridico non così forte allora entrambi due gruppi sono consapevoli del fatto che un'esperienza all'estero sia abbastanza inevitabile nella società attuale la conoscenza di una lingua è ovviamente il tema che viene evidenziato sottolineato da tutti anche qui si sconta uno sguardo forse anacronistico rispetto alla realtà andando poi a intervistare direttori di risorse umane in vari ambiti del mercato del lavoro si scopre che la lingua straniera è abbastanza data se di straniero se intendiamo l'inglese è abbastanza data per scontate adesso l'asticella si è alzata nella conoscenza di un'altra lingua lingua straniera quindi da questo punto di vista il tema dell'orientamento il tema dell'accompagnamento rispetto alla comprensione di quelle che siano davvero le richieste del mercato del lavoro e ritorniamo a una distanza ancora troppo ampia fra mondo della scuola della formazione e mondo del lavoro rispetto all'opzione di trasferirsi in maniera definitiva all'estero abbiamo una prima differenza per i giovani stranieri tale opzione diventa concreta nel momento in cui si percepisce di essere esclusivamente tollerati o addirittura indesiderati nel contesto di vita e per molti è l'unico contesto di riferimento senati in Italia nell'altro caso per i coetanei italiani c'è una differenza rispetto a chi ha delle buone credenziali educative e chi in qualche modo rischia avendo all'interno del proprio carnet un ventaglio di opportunità dettate da master da percorsi post terziari di restare intrappolati nei cosiddetti cattivi lavori coloro che sono radicati nel loro contesto locale e non sono disposti a partire ovviamente il mio progetto di ricerca partiva dalla mia città quindi partiva da Torino allora Torino è una città che negli ultimi anni si è diciamo irrobustita sul versante di essere città universitaria attraverso il nuovo campus dell'Università di Torino oltre alla significativa presenza del Politecnico ci sono quindi molti studenti fuori sede per questo specifico sottogruppo di studenti italiani di origine italiana la mobilità è una mobilità inversa una mobilità che porta al rientro nel paese di origine e questo diciamo è un aspetto che ha due risvolti da un lato in termini negativi rispetto alla città che ha fornito le competenze e quindi Torino con il Politecnico all'Università perdono in qualche modo capitale umano formato d'altra parte però questo capitale rientra dopo un percorso di formativo formativo al di fuori del proprio comune rientra nel paese di origine quindi almeno all'interno del contesto nazionale è un gioco positiva giovani stranieri insomma spesso giovani che non intendono come dicevo già precedentemente avviare un nuovo inizio soprattutto se sono ricongiunti quindi non seconda generazione in senso stretto ma se sono nati all'estero arrivati in Italia durante l'adolescenza non c'è proprio una tensione a ricominciare in un nuovo paese e poi i giovani cosiddetti incerti coloro che ancora non hanno ben chiaro se e come si realizzerà l'incontro con il mercato del lavoro insomma tendono a pensarsi giovani adulti come ancora qualcosa come uno step lontano nel tempo da realizzarsi hanno però almeno maturato una consapevolezza sul rendersi autonomi e contribuire al bilancio familiare quali sono le alcune riflessioni necessarie per poter ragionare rispetto a questo tema e soprattutto per elaborare delle indicazioni di policy in modo che quantomeno i percorsi di mobilità internazionale di giovani e meno giovani che partono dall'Italia siano più consapevoli meglio orientati meglio finalizzati allora innanzitutto avere una possibilità di lavorare su su dati certi qualche dato veniva citato in apertura abbiamo sicuramente un vincolo dato dalle statistiche rispetto anche solo alla quantificazione della mobilità internazionale dei giovani italiani in questo caso non tutti i giovani che si trasferiscono all'estero banalmente si cancellano dall'anagrafe del paese di origine e tantomeno e questo è il punto che ci interessa si iscrivono all'anagrafe dell'aere all'anagrafe degli italiani residenti all'estero l'unica fonte possibile per poter monitorare il fenomeno fenomeno che quindi per certi versi risulterà sempre sotto sottostimato rispetto a quella che è la realtà altro elemento su cui riflettere lavorare sulle rappresentazioni dicevo c'è un immaginario che accompagna in qualche modo la mobilità internazionale spesso l'immaginario che guida i giovani nei confronti del contesto tedesco è un immaginario dove i benefici le opportunità di welfare anche in termini di disoccupazione la facilità di accedere a questi benefici sconta ad esempio la mancanza di tutta una serie di informazioni allora sono benefici accessibili sì ma a certe condizioni occorre rispettare una tempistica che molti scoprono scadenze ormai raggiunte insomma c'è tutta una sorta di socializzazione alla partenza che andrebbe maggiormente sviluppata e soprattutto andrebbero anche messi in rilievo e portati all'attenzione dei possibili candidati quelli che sono anche le condizioni reali dell'inserimento nel mercato del lavoro quali possono essere i percorsi di effettivo riconoscimento di qualifiche titoli di studio di come si possa procedere entro quali quali tempistiche e via dicendo ovviamente nell'ambito di queste riflessioni è importantissimo ritornare a considerare il ruolo della scuola mi piace perché la scuola è chiamata in causa in moltissimi ambiti e per moltissime questioni quindi non si vuole assegnare alla scuola un ulteriore un compito aggiuntivo sappiamo che la scuola ha già dei compiti in termini di orientamento in termini di orientamento in uscita penso in particolar modo alla scuola alla scuola superiore ma lo stesso la stessa attività è svolta anche all'interno del contesto terziario e quindi universitario forse vanno aggiornate le competenze di chi svolge e di chi ha questi incarichi sicuramente vanno ampliati gli orizzonti vanno anche aggiornate le lenti con cui si guarda alle caratteristiche del mercato o dei mercati del lavoro che non sono sempre che non rimangono immutate e che si modificano a seguito di dinamiche internazionali e ancora di più in quest'anno a seguito degli effetti della pandemia l'altra riflessione necessaria riguarda un po' la definizione che diamo del fenomeno la sottolineatura del capitale umano in fuga non sempre è quella esatta quella migliore quella che raggruppa tutte le varianti possibili siamo di fronte a un capitale umano in fuga o in formazione siamo di fronte a un capitale umano che insomma consapevolmente decide di realizzare una parte della propria biografia all'estero per poi rientrare o siamo di fronte a un capitale umano che vuole in qualche modo inserire una cesura netta con il paese di origine ecco su questo forse qualche riflessione in più andrebbe fatta qualche approfondimento per avantiare il dibattito innanzitutto il dibattito mediatico in qualche modo oscilla fra l'emergenza fra una dinamica di emergenza i giovani perdiamo il capitale umano perdiamo le energie migliori perdiamo quella fascia di età necessaria per un mercato del lavoro all'interno di una società che invecchia quindi una logica dell'emergenza però si scontra con una realtà che spesso viene quasi mai quantificata spesso viene quantificata in maniera inesatta o non circostanziata rispetto alle difficoltà di monitorare dal punto di vista dei dati il fenomeno viviamo una quotidianità che non sembra essere propria di una società multiculturale il fatto che i giovani pensino a confrontarsi con una realtà multiculturale solo andando all'estero ci fa in qualche modo comprendere come ci sia un divario fra quella che è una realtà di fatto multiculturale in moltissimi contesti anche da tempo insomma la diversità esito di processi migratori non è più la cifra non è più esclusivamente la cifra dei grandi contesti cittadini c'è stato un fenomeno di dispersione territoriale della diversità esito dalle migrazioni però forse questa realtà si sconta con quelle che sono delle norme che leggono o presentano questa realtà esclusivamente in termini di ingresso o controllo della presenza straniera c'è un altro approfondimento da fare che emerge dalle ricerche qualitative sui giovani che vanno all'estero e che riguarda il ruolo dell'associazionismo etnico e religioso anche qui qualcosa che richiama pensate al ruolo delle cappellanie cattoliche rispetto alla migrazione italiana in Germania il ruolo dell'associazionismo dei diversi paesi di origine nei contesti di migrazione ecco anche nella nuova mobilità internazionale che ha come protagonisti i giovani l'associazionismo etnico o religioso continua a giocare un ruolo importante ci si rivolge alla parrocchia di lingua italiana per avere orientamento per magari chiedere se c'è un corso di lingua tedesca gratuito se c'è un aiuto per la redazione del curriculum in tedesco ci si rivolge all'associazionismo italiano e guardate questo vale è un elemento trasversale ho riscontrato lo stesso per quanto riguarda spagnoli e portoghesi ci si rivolge alle associazioni italiane alle associazioni di spagnoli in Germania ma lo stesso avviene anche in Inghilterra certo cambiano le dinamiche di queste associazioni che sono presenti online che hanno blog che sono caratterizzati da una community che hanno delle chat in cui ci si può incontrare si può discutere si può scambiare informazioni cambiano diciamo cambia il medium attraverso cui si contattano spesso le associazioni etni però il tipo di attività in termini di garantire diciamo delle informazioni validate in termini di rivolgersi a un soggetto un luogo sia pure virtuale che appare fiduciario e trasversale a tutti i protagonisti delle nuove mobilità così come lo erano i protagonisti delle migrazioni diciamo di altre epoche o che caratterizzano oggi le migrazioni internazionali e infine un approfondimento andrebbe rivolto a un a rafforzare il nesso fra la ricerca e le policy a rafforzare il nesso fra quelli che possono essere i risultati di ricerche tipo quella a cui ho fatto qualche cenno durante la presentazione e poi le elaborazioni di policy che definiscono percorsi ad esempio di rientro che promuovono attività di aggiornamento nel mondo della scuola che sostengono un più stretto nesso fra scuola e mercato del lavoro attraverso iniziative saloni dell'orientamento saloni dell'incontro con gli operatori del mondo del lavoro e via dicendo grazie noi ringraziamo la professoressa Ricucci una come dire relazione molto densa hai messo sul tavolo una quantità di problemi situazioni eccetera notevole vediamo se ci sono domande per approfondire alcuni di questi temi te ne faccio subito una io su un aspetto che mi ha così colpito questo fatto per cui i giovani italiani percepiscono l'andare all'estero come occasione di incontro multiculturale di scambio multiculturale mentre non lo vedono a casa loro quando da un punto di vista quantitativo siamo più o meno i dati sono analoghi grosso modo soprattutto in realtà Nord Italia Milano eccetera e questa cosa può dipendere dal fatto forse che si aspettano un incontro multiculturale con qualcuno al loro livello culturale cioè di studi titolo di studio e quindi non prendono neanche in considerazione il fatto di poter avere un confronto uno scambio culturale con la miriade di lavoratori quelli che ti portano il pacco quello che ti porta la pizza o che fa il cameriere al ristorante eccetera che con i quali probabilmente nel loro percorso di vita e di studio non hanno non hanno mai incontrato incrociato non so mi stavo dando delle risposte ma lo chiedo a te sì questo è un elemento sicuramente per molti giovani italiani il confronto diciamo l'interazione con la diversità è stata esperienza della quotidianità hanno diciamo condiviso i banchi di scuola con compagni che venivano da altri contesti nazionali o che avevano tratti somatici o fenotipici differenti e quindi sono entrati in qualche modo nel loro intorno quotidiano annullando il tratto di differenza etnico culturale per cui sono entrati nel loro quotidiano come giovani come coetani come adolescenti l'esperienza multiculturale che cercano va nella direzione di lavorare in un ambiente plurale quindi va nella direzione di sperimentare inserimenti professionali dove la diversity culturale è pregnante cosa che ad oggi in Italia come dicevi tu per la segmentazione che caratterizza il mercato del lavoro degli immigrati o di coloro che hanno cittadinanza non italiana ancora non consente quindi c'è come una sorta di distonia rispetto alla percezione i coetani non sono più considerati stranieri non sono più parte della realtà multiculturale perché sono assimilati in qualche modo all'intorno quotidiano dei giovani protagonisti il multiculturalismo si gioca ad altri livelli quindi si gioca nei quartieri di residenza negli ambienti diciamo della socialità frequentati si gioca negli ambienti lavorativi vedo messaggi di ringraziamento di considerazioni sul materiale sul fatto che hai fornito molti materiali su cui riflettere non vedo altre domande ma me ne viene un'altra poi ti lascio perché so che sei reduce da diverse ore di lezione quindi sarai anche stanca ma mi interessava capire meglio questo rapporto apparentemente contraddittorio nel senso che da un lato tu dicevi negli ultimi 15 anni ci sono state caratteristiche diciamo migratorie diverse rispetto al passato pur viste lette con stesso linguaggio eccetera ma parallelamente hai sottolineato in più occasioni come ci siano forte analogie fra questo livello di questo tipo di migrazione o di mobilità con la migrazione tradizionale ecco volevo capire meglio questa doppia dimensione prevalentemente quello che quello che è cambiato è come i protagonisti si si percepiscono rispetto all'esperienza di mobilità negli ultimi 15 anni chi lascia chi ha lasciato l'Italia non si è non si non si definirebbe mai un emigrato perché perché l'emigrato l'emigrante è insomma ha una connotazione negativa è associato diciamo a una figura dequalificata a una figura con basso titolo di studio a una figura che fatica a inserirsi in un nuovo contesto sappiamo che che questa diciamo è questo un immaginario assai povero per non dire stereotipato del del migrante e del migrante che è arrivato in Italia sappiamo che i pionieri delle migrazioni sono da sempre coloro che hanno capitale culturale capitale economico capitale sociale sono tendenzialmente membri delle classi medio-alte dei paesi di partenza poi nel prosieguo del ciclo migratorio arriveranno anche gli altri ma prima di tutto partono partono i migliori diciamo così coloro insomma che hanno le risorse per affrontare la migrazione e che mettono la migrazione in un progetto in un progetto di vita ecco la l'essenzializzazione che hanno fatto soprattutto i media rispetto alla figura del del migrante se prendiamo diciamo agli ultimi anni di migrazione nei media si parla prevalentemente o quasi esclusivamente in merito agli sbarchi in merito ai processi di accoglienza in merito diciamo a delle figure che sono sì diciamo a cui prestare attenzione a cui dedicare risorse iniziative politiche ma rappresentano una quota assai minima all'interno dello scenario generale dei cittadini stranieri residenti in Italia dove buona parte è ormai avviata in percorsi insomma da classe media oltre e che non vengono per nulla pubblicizzati all'interno del dibattito mediatico e questo rende diciamo un'assimilazione con la figura del migrante diversa e per questo negli ultimi 15 anni che ha lasciato l'Italia preferisce etichette come expat come soggetto mobile internazionale insomma come cittadino della globalizzazione ma nei fatti poi si tratta poi di un cittadino migrante che utilizza sia pure inconsapevolmente quelle stesse dinamiche che utilizzano tutti i migranti e tutti i processi migratori e quindi frequentano i luoghi legati al proprio contesto nazionale cercano una facilità di inserimento attraverso la migrazione della propria lingua ovviamente questo è il dato generale ovviamente ci sono c'è coloro che rifuggono queste dinamiche come ci sono in qualsiasi come parte di questi gruppi sono presenti in ogni processo di immigrazione però insomma è estremamente interessante questa presa di distanza dall'immaginario che riconduce l'immigrato esclusivamente a un fermo cristallizzato rispetto a un'epoca che non è quella attuale o che non è più solo quella attuale e porta i protagonisti giovani o meno giovani delle immigrazioni internazionali a prendere la distanza e a trovare le altre etichette per definirsi bene vedo che arrivano altri ringraziamenti e dichiarazioni di interesse rispetto ai temi ma non domande quindi significa che sei stata estremamente chiara quindi direi che ti ringrazio ancora e possiamo lasciarci e darci appuntamento a una prossima occasione visto che sicuramente avrai in cantiere altre ricerche altri temi interessanti da proporci mi saluto a tutti saluto in particolare la nostra ospite e anche chi ha curato l'aspetto tecnico Eleonora Cirant e arrivederci fra un mese per la terza relazione vi manderemo un altro invito perché il tempo era l'unico buco che la professoressa Naldini aveva per concederci un'oretta del suo tempo quindi grazie ancora a tutti e grazie Roberta Ricucci e arrivederci a tutti arrivederci grazie grazie